Bentornati in diretta, facciamo un bellissimo approfondimento, parliamo di cultura, di cinema, ma parliamo ancora di Roma, del nostro amatissimo raccordo anulare, insomma non sempre, amato odiato, lo facciamo riospitando, è già venuto a Roma 1 qualche settimana fa, Nicolò Bassetti, buon pomeriggio, è un urbanista, un autore, l'ideatore del progetto Sacro Grà, paesaggista esploratore urbano, perché questo merita anche di essere ricordato ancora, per arrivare intanto al film, premiato a sorpresa, ma credo con un'enorme soddisfazione da parte vostra, Bassetti e altri, quante ore avete camminato, quanti giorni, lungo il raccordo? Abbiamo camminato, ho camminato in solitudine, volutamente in solitudine, ho camminato per 300 km, il raccordo è come tutti sanno di 70 km, io ne ho fatti 300 zigzagando, entrando e uscendo con grande lentezza, cioè ho opposto la lentezza del cammino alla velocità del raccordo in automobile, ho opposto quindi l'attenzione, lo sguardo e l'ascolto a quello che in realtà è il raccordo, c'è una specie di censura della città, perché sul raccordo come ben sapete, come ben chi lo fa e molti romani, quasi tutti i romani lo conoscono, percorrendolo non si sa mai dove si è. Neanche quando si arriva, la battuta è facile perché lui camminava a passo d'auto, qualcuno dirà a casa, quando c'è il blocco, le immagini d'archivio che adesso riscorreranno le nostre immagini, anzi quasi quasi si scorre. Perché oggi ne riparliamo? Perché merita assolutamente di ricordare il fatto che non si è chiuso il cerchio, a proposito di Gra, con il film che tra l'altro sta andando ancora in distribuzione con grande successo, ma c'è un libro che Bassetti oggi ha riportato e poi ci sarà anche una mostra, quindi è un progetto che diventa, sono parole abusate, multiculturale, però siamo di fronte a qualcosa che è davvero così, così ha. Sì, direi che la grande soddisfazione è quella di essere partiti all'origine proprio con un laboratorio di narrazione, cioè l'idea era proprio questa, io sono partito a piedi lungo il raccordo con un'idea originale che non era chiarissima, sono partito alla scoperta e all'ascolto di questo luogo straordinario che avevo intuito fosse un luogo da raccontare. Quando ho finito il viaggio ho capito che avevo talmente tanto materiale, talmente tante cose che mi erano cascate addosso, che ho deciso di non farlo da solo perché non sarei arrivato da nessuna parte o ci avrei messo forse vent'anni e quindi ho coinvolto, ho coinvolto chi? Ho coinvolto un mio carissimo amico scrittore, Sapo Matteucci, col quale abbiamo iniziato a scrivere il libro, riportandolo a fare delle passeggiate lungo i territori del raccordo, le cosiddette terre di raccordo, come le chiamo io ormai, perché non uso più la parola periferia, da quando sono andato in giro a piedi per il raccordo non uso più la parola periferia, perché secondo me il raccordo anulare è una città invisibile, è il vero centro lineare di Roma. Questo il film lo ha mostrato, però con delle storie quanto romanzate in realtà o quanto vere, molto più reali che non romanzate. Sono tutti personaggi che io ho incontrato lungo il mio cammino e che poi Gianfranco ha scelto, Gianfranco Rosi ha scelto, poi ne ha trovati anche lui, degli altri che sono entrati nel film, ma sono personaggi assolutamente reali e questo è quello che ha fatto Gianfranco, è un documentario, è un film documentario, ma narra e racconta la storia di persone, della quotidianità di personaggi che vivono la loro vita quotidiana, quindi che hanno sostanzialmente interpretato se stessi. Questa è la famosa locandina del film. Col famoso punteruolo rosso. Il famoso punteruolo rosso che è uno degli episodi, si può dire. Sì, certo. Però alla base di tutto, ancora prima, io ho letto anche attraverso le sue dichiarazioni e interviste, lei perché uno prende e dice voglio raccontare il gra, perché nessuno l'aveva mai fatto d'altronde in tanti anni. Nessuno l'aveva mai fatto, quando io, insomma, l'accento mi tradisce, io sono di origini milanesi, ma vivo, mi sento molto romano, amo pazzamente questa città e non me ne andrei più, probabilmente rimarrò qui per sempre perché è una città che amo davvero tanto. Insomma, quando ho cercato di capire, io mi occupo di paesaggi, mi occupo di luoghi che hanno perso la loro identità, quindi questo è il mio lavoro, è un lavoro strano ma lo faccio da tanti anni e quando ho cominciato a cercare delle notizie, degli scritti sul raccordo anulare non ho trovato nulla e questo ovviamente mi ha incuriosito ancora di più. Se non, Bassetti, mi perdoni, immagino qualcosa di tecnico, no? Perché sulla realizzazione, sui passaggi... Pochissimo anche su quello, diciamo che su Roma ci sono migliaia di volumi che raccontano di tutto, anche la Roma contemporanea, ma non c'è nulla sul raccordo, è come se il raccordo non esistesse e questo mi ha immediatamente creato una connessione proprio di fantasia creativa con il libro Le città invisibili di Calvino, quindi proprio è una città invisibile il raccordo anulare, i territori, se pensate che dentro... Tra il sogno e la realtà, qualcosa del genere, eccetera? Beh sì, l'idea che la città e le città sono fatte di sogni e di paure, no? Ah, e di paure, certo. Calvino diceva che le città sono dei luoghi fatti soprattutto di sogni e di paure, pensate che chi vive in una città è lì anche per realizzare i propri sogni, ma vive anche le proprie paure, insomma, concentrano e si intersecano una con l'altra. Questo sito è più che altro un portale, proprio Sacro Gra, fa riferimento anche a nuovi paesaggi urbani, qui insomma chiunque può andare e trovare la guida a qualsiasi approfondimento, giusto? C'è tutta la storia del progetto, ci sono dei pezzi del libro, c'è il trailer del film, c'è la storia di Gianfranco Rosi, la storia di tutti i fotografi che sono venuti a fare le fotografie sul raccordo, fotografie professionali col banco ottico, cioè c'è stato un lavoro di quattro anni, lunghissimo, che è partito da questo mio viaggio a piedi e poi è fiorito, è fiorito, è fiorito e è diventato un vero laboratorio di narrazione. Però non so se ha detto la verità, perché io ho letto anche che il prossimo, lui ha anche un altro progetto, il nostro ospite, di andare a fare la circonvesuviana di Napoli, quindi forse ci tradirà, insomma, andrà a Napoli e poi si innamorerà altrettanto di Napoli. Questo vedremo, io spero di poterlo realizzare, vedremo, se mi rinviterete qui tra un po' magari ne riparliamo di questa vicenda. Senta, io sono felicissimo ogni volta che si parla di Renato Nicolini, ma lo dico veramente insomma con grande sincerità, perché tra i pregi che aveva questo straordinario intellettuale e politico veramente sui generis, lo dicevo prima fuori onda, c'era anche una disponibilità che era impagabile, una cortesia, insomma un'umanità che, dico la verità, quando io l'ho conosciuto qui a Roma 1, insomma mi ha messo quasi, mi ha lasciato imbarazzato, cioè ero io quello imbarazzato di fronte alla gentilezza di Renato Nicolini, un punto di riferimento incredibile per Roma, purtroppo è scomparso davvero lasciando un vuoto enorme insomma a Roma, ma credo proprio all'Italia, no? Ecco, voi avete realizzato anche questa intervista fatta su un van che gira intorno, su un minivan che gira intorno al raccordo anulare, l'ha fatto lo stesso regista Gianfranco Rosi, però Bassetti vorrei, prima di vederne almeno un frammento, perché è pubblicato, è stato prodotto da Rai Movie, ci dà l'opportunità di vederne almeno un pezzo di questa mezz'ora meravigliosa, insomma, di monologo di Nicolini, ecco contestualizziamolo. Io ci tengo tantissimo, perché io conosco Renato Nicolini, l'ho conosciuto tanto tempo fa, quando lui era assessore alla cultura a Napoli, perché io a Napoli ho già fatto un lavoro che mi è piaciuto tantissimo, ho lavorato dentro nell'ex acciaierie di Bagnoli e abbiamo realizzato un grande concerto proprio dentro nell'area industriale e se non ci fosse stato Renato Nicolini non sarei mai riuscito a fare quel progetto, lui ci ha messo la faccia, ci ha messo tutto il suo straordinario entusiasmo. Quando sono ricapitato sul raccordo, sulla questione del raccordo, l'unica persona che ho trovato che avesse scritto qualcosa sul raccordo, ho trovato che era Renato Nicolini. Ha scritto un saggio bellissimo, ovviamente molto provocatorio, ma molto intelligente, che si chiama Una macchina celibe e dice, che cosa dice? Dice che il raccordo è una forma di censura della città, che è stato costruito negli anni 60, durante il boom economico, durante il momento in cui tutti si compravano l'automobile, la motorizzazione di massa, la chiamavano, è stato costruito per organizzare la città, ma in realtà è stato un grande fallimento perché ha solo generato caos e questo se lo guardiamo adesso con un occhio critico effettivamente possiamo immaginare che genera... Anche lì aveva ragione. A un certo punto io l'ho vista tutta questa mezz'ora e vi invito a andatela a cercare sul sito di Rai Movie, ma poi la potete trovare anche, è uno dei crediti del progetto. C'è uno dei crediti sul DVD, che adesso è in vendita in tutte le librerie, in tutti i negozi dove si possono acquistare i DVD, c'è il film e c'è anche il credit di Tanti Futuri Possibili si chiama, perché lui alla fine dice una frase e dice Tanti Futuri Possibili, il raccordo anulare evoca Tanti Futuri Possibili. Ma a un certo punto, insomma, a parte che fa delle sue incredibili riflessioni, c'è la città, c'è la parte della luce, no? Perché c'è tutta quella parte di fabbriche lampadari, luci, poi... Diciamo che Renato Riccolini aveva capito con tanto tempo... C'è la città della Roma, mi scusi Bassetti, è meraviglioso quando dice Torrino, qui ci abita tutta la squadra della Roma, però non vogliono farsi vedere, quindi tutto ciò che si vede, ma anche che non si vede da raccordo, ma che lui conosceva, insomma, una serie di rimandi, chiaramente, culturali fantastici, ma anche lì è stato l'unico che lo ha affrontato, diciamo, che lo ha raccontato. Sì, era una persona che aveva uno sguardo molto profondo, aveva proprio una visione, aveva una visione. Oggi è così difficile incontrare degli amministratori che hanno una visione del loro lavoro e della loro missione pubblica. Nicolini sicuramente ce l'aveva, era una persona che con le stati romane, credo, abbia fatto capire a tutto il mondo il paesaggio romano, il paesaggio urbano è, questo è il mio lavoro, ma insomma il paesaggio urbano è il teatro dove noi tutti i giorni rappresentiamo la nostra vita, noi quando ci alziamo, usciamo di casa, viviamo in un contesto, viviamo in un habitat e questo habitat è il nostro teatro, dove noi rappresentiamo la nostra vita. Quindi Nicolini aveva ripreso questo concetto molto bello, molto poetico e l'aveva riportato per le strade di Roma. Quindi i romani durante l'estate romana, per quelli che se lo ricordano, potevano vivere questi momenti straordinari in una città che diventava un teatro. E tra l'altro purtroppo, insomma, se n'è andato recentemente anche Borgna, insomma, sono due figure diverse, sono state senz'altro, però un altro, insomma, conoscitore, grande di Roma e insomma della sua cultura. Adesso ho una piccola difficoltà, insomma, tecnica, però ci tengo a mandare questi tre o quattro minuti. Parliamo intanto del libro. Cosa c'è di diverso, no? Semplificando, non me ne voglio, Bassetti, rispetto al film? No, anzi, grazie alla domanda, il libro è partito prima del film, ha una sua vita autonoma, è una narrazione più mappata e più avventurosa, più specifica del viaggio intorno al raccordo manuale. Sono dodici capitoli, ogni capitolo è una storia, a fianco di ogni capitolo ci sono delle note che fanno appoggiare un po' il contesto, quindi uno può leggere, che ne so, una storia sull'Aurentino 38 e poi a fianco leggere le note capendo bene un po' la storia dell'Aurentino 38. Non è mai un manuale, non è un romanzo. Non è così didascalico? Assolutamente no, è proprio un, diciamo, non ha nulla di scientifico, è un libro di opinione, direi, un libro fatto di emozioni, di persone che si sono sentite libere di raccontare le emozioni che provavano camminando nei campi in mezzo al Parco della Piantica, piuttosto che al Laurentino 38, piuttosto che al Corviale, piuttosto che invece, insomma, lungo il fiume, lungo il Tevere, incontrando i pescatori, eccetera, eccetera. Sono tante piccole, grandi avventure, tanti incontri, tante chiacchiere, tante piccole storie che sono tutte prossime al raccordo anulare e quindi trasformano questo nastro d'asfalto in un grande centro, in una grande città invisibile che viene svelata da questo libro che ho scritto con Saffo Matteucci. Anticipata anche da queste foto di viaggio, no? Che io sto mandando adesso i suoi appunti di viaggio, quelli fotografici che, insomma, sono così diversi poi nel cerchio del raccordo anulare, cambiano così, insomma. Beh, Roma è una città fatta, forse l'unica città al mondo che ha questa capacità di offrire spaesamento, no? Beh, vuoti e pieni. Ci sono dei vuoti dentro il raccordo anulare e ci sono tanti pieni fuori dal raccordo anulare. Faccio solo un esempio per tutti, mezzo cammino. Questo è un pieno era, eh? Non si faccia carrozza. Questo è il cimitero, è il cimitero Lavrentino, che è un posto, insomma, molto, molto, molto strano. È un cimitero drive-in. Ah no, no, l'avevamo fatto con queste immagini, neanche riuscivo a riconoscere. Noi l'abbiamo chiamato la morte pop, nel senso che c'è la sensazione, intanto dentro del cimitero si va in automobile, quindi ci si muove in macchina come proprio in un drive-in sostanzialmente. Ci sono tutti i linguaggi dei gesti che sono riferibili a quelli degli ipermercati, cioè quando si va all'Ikea, quando si va nei grandi luoghi per fare la spesa, ecco, c'è l'adattamento del culto, comunque della morte, insomma, e dell'aldilà trasferito su questo tipo di linguaggi. Quindi è una cosa che a me ha colpito moltissimo. Beh, quei colori veramente inaspettati, anche di una serie di... Sì, sì, sì. Queste sono le case... Queste sono le case del Quartaccio, è un quartiere che è stato costruito negli anni Ottanta con un'edilizia pubblica convenzionata. Poi le case sono state tutte occupate immediatamente, ancora prima che fossero finite, c'è stata una lunga battaglia che ha lasciato un segno molto importante e poi adesso c'è anche una forte questione relativa al degrado, insomma. Però c'è anche una grande identità. La cosa che noi abbiamo trovato e che io ho trovato molto interessante, che nel libro è raccontata con curiosità, attenzione e con grande rispetto, è che in molti quartieri, in molte zone della Roma lungo raccordo, che sono zone anche che vivono condizioni di grandi difficoltà, di degrado, c'è un forte senso di appartenenza. Ce n'è di più in zone che hanno problemi che non in zone che non hanno... che magari ne hanno... Cioè, non solo, perché sarebbe anche... è anche abbastanza facile, no? Ci si ritiene... che si appartiene al territorio, si sta a trastevere, per capirci, ma anche in queste zone che a volte sono anche senza rome. Dirò di più. Una delle cose che è che noi abbiamo avuto un po' anche il coraggio di scrivere, perché non è così facile, no? Scrivere delle cose che vanno molto controcorrente. Il raccordo anulare ha attratto moltissimo abuso, cioè lungo il raccordo, proprio perché c'era il raccordo, si sono realizzate tantissime zone totalmente abusive, a volte dentro degli orti, a volte in modo casuale, lungo le consolari. Questi luoghi che sono nati durante il boom economico, in genere verso gli anni... fine degli anni 70, sono delle vere e proprie città, delle piccole città, completamente disarticolate, dove i servizi sono stati portati solo recentemente, parlo di fogne, parlo di raccolta di mezzi pubblici, parlo della raccolta dell'immondizia, parlo delle scuole. Quindi erano prima delle... quasi delle favelas, diciamo, no? Ecco, che poi si sono, come evolute, sono diventate città. Sono state condonate, ci sono state le operazioni che vengono anche raccontate nel libro, e però il senso di appartenenza e la qualità della vita di questi luoghi, vi assicuro che è molto più umana di quanto non lo sia in altri luoghi che invece sono stati costruiti, pianificati, voluti dall'alto e che in realtà sono dei luoghi che sono molto disumanizzati. E lì il film, però, per chi non l'ha ancora visto, insomma, aiuta molto, mi pare. Sì, il film, il film, la scelta... Ah, ci sono storie individuali, però... La scelta di Gianfranco Rosi, che è una scelta che io ho vissuto in prima persona, perché all'inizio ero io che portavo lui a vedere i luoghi, poi pian piano è stato lui che li ha scelti e sono stato io a andare dietro a lui, quindi c'è stata come una staffetta. Ecco, a un certo punto io mi ricordo che Gianfranco è entrato in crisi, perché un conto è scrivere e raccontare scrivendo e quindi ti puoi prendere la libertà di scrivere un libro di 200 pagine, 250 pagine, raccontando. Un conto è fare un film, un film devi essere molto... devi fare delle scelte, delle scelte drastiche e lui, a un certo punto, non riuscendo più a ritrovarsi come colto da una specie di attacco di agorafobia, non si era perso sul raccordo, a un certo punto ha deciso di astrarre tutto quanto, cioè di togliere tutti i riferimenti ai luoghi. Quindi il film è la storia di storie e però non c'è mai la possibilità di riconoscere dove sono questi luoghi. Questo è stato un elemento vincente, una scelta artistica di Gianfranco Rosi straordinaria che lo diversifica tantissimo dal libro, lo allontana dal libro, perché il libro invece è il contrario rispetto a questo. In questo senso proprio questo laboratorio di narrazione diventa ricco proprio perché leggendo il libro e guardando il film si hanno due sguardi diversi. Facciamo una cosa, allora prima di vedere Renato Nicolini vogliamo far vedere questa una delle clip, insomma famose, ormai note, il palmologo, posso mandare il palmologo? Assolutamente, Francesco. Vediamolo insieme. Vediamo se riusciamo perché sono io poi da qui che a volte faccio anche così, dei danni. Ecco. Qui c'è l'audio, non sentiamo. Sì, non sentiamo l'audio in questo momento, Bassetti può parlare certamente, certo lasciamo le immagini però, poi se riusciamo a rimandare, ho fatto io un piccolo danno, ma poi se abbiamo la pubblicità forse lo ripariamo. Sì, no, l'audio è, cioè lui è in cuffia e sta ascoltando, ha messo una sonda dentro nella palma e ascolta il punteruolo rosso che si sta divorando, i milioni di punteruoli rossi che si stanno divorando la palma e noi abbiamo registrato proprio il rumore di questa che lui chiama un'orgia praticamente perché è una grande abbuffata e è lì che ascolta preoccupatissimo perché effettivamente nel suo palmetto sta succedendo un disastro. Allora, risolviamo questa cosa, andiamo in pubblicità così ci prendiamo due o tre minuti, ai telespettatori che poi lo so quando insomma li portiamo su terreni nuovi, tra virgolette, per la nostra trasmissione, a volte ecco sono anche un po' titubanti, dico però dateci le vostre riflessioni, condividetele con questo grande autore che è qui e insomma con noi tutti, se volete allo 0659 10285, pubblicità, torniamo tra poco ancora con Nicolò Bassetti e il Sacro Gra. Bene, siamo tornati in diretta, tra pochissimo rivedremo queste clip sia del film che, ripeto, dell'intervista a Nicolini che è un prodotto a parte e che trovate però nel DVD completo a questo punto anche di questa chicca, no Bassetti? Certo, certo. Ci sono diverse telefonate, io non so se seguiranno un po' il filo anche poetico certamente dell'autore o se ci riporteranno alla realtà del raccordo come lo vivono i romani. Chi c'è al telefono? Buon pomeriggio. Scusciatore, Antonio, la Santa Paromba. Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. No, io complimenti perché tu tratti un po' tutto in genere, quello che c'è da trattare, è bello perché è una trasmissione che ti ho detto, ma mi sono accurato e mi piace. Grazie. Però devo dire una cosa, sì il raccordo è bello, ci hanno fatto un film, un libro, ci scrivono quello che vuoi, però noi abbiamo una realtà diversa perché i tecnici o gli ingegneri che hanno costruito questo raccordo, se tu vedrai... Mitico ingegnere gra, non a caso insomma. Sì ma tu devi vedere che uscite che ci sono, noi abbiamo l'uscita della Tuscolana e Anagnina che le macchine devono fare di testa coda per uscire da quell'imbuto, specialmente l'Arbiadina, la gasilina, che sono uscite uniche, o l'Appia, si fanno la sera delle file interminabili che poi le macchine stanno in sorpasso, devono rientrare a destra e causano anche incidenti e ci sono stati pure gravi incidenti che i motociclisti si coinvolti. Noi stiamo ai livelli della periferia di Parigi oppure quella di Monaco, l'anello quello che c'è a Monaco di Baviera, stiamo molto, diciamo un po' più indietro di quelle regolazioni. Grazie Antonio, questo è il più grande anello in realtà urbano che ci sia in generale, però lui punta il dito sulla sicurezza, ma per questo Bassetti non l'ha fatto in auto credo. No, no, io me ne sono ben guardato dal farlo in automobile, Antonio, io l'ho fatto a piedi, mai salendo sul raccordo se non un paio di volte quando dovevo attraversare il Tevere e la Niene, capisco benissimo quello che dici perché è così, io lo vedevo tutti i giorni perché non mi allontanavo dal raccordo, quindi sentivo questo rombo pazzesco, anzi ti dirò di più, grazie per questa telefonata perché ti voglio raccontare perché il film si è chiamato Sacro Gra, l'ho chiamato Sacro il progetto perché una volta nell'antichità si dava il nome Sacro a tutti quelli fenomeni della natura che non erano controllabili dall'uomo, quindi gli antichi chiamavano Sacro le montagne, i fiumi, i vulcani, no? Io un giorno che c'era molto vento, ero a sud di Roma e stavo camminando lungo il raccordo, vedevo questo raccordo pieno di traffico e di caos e ho capito che noi uomini ormai costruiamo delle infrastrutture che sono così grandi, così imponenti che ci sfuggono al controllo, cioè sfuggono al nostro stesso controllo e parlo non solo ovviamente di anelli, quelli di Francoforte, Monaco, piuttosto che Londra, piuttosto che Parigi, ma parlo anche delle dighe, parlo delle centrali nucleari, parlo delle grandi opere. Oggi l'uomo, e quindi ho voluto creare una metafora, cioè oggi l'uomo ha l'ambizione e spesso la velleità di costruire opere che vogliono organizzare il mondo e in realtà queste opere generano più caos di quanto ordine riescono a costruire. Anche molta frustrazione. E molta frustrazione. L'esempio che ha citato Antonio è esattamente questo, cioè soprattutto quando poi non ci si mette impegno nella manutenzione, nella gestione, il raccordo anulare è uno dei luoghi peggio indicati e segnalati che io abbia mai visto in vita mia. Ecco, questa è un'altra certezza. Ma un'altra domanda che volevo farle è, ma proprio la violenza del raccordo, nel senso del rombo dei motori, della routine di questa quotidianità, non l'ha mai scoraggiata nel suo invece cammino, abbiamo detto prima, preparatorio, mesi, anni di cammino proprio intorno al raccordo, non l'ha mai scoraggiata, non l'è mai venuta voglia di dire, ma io non ci riesco, perché qui c'è un impatto troppo forte, non riesco ad avere una visione diversa. No, direi anzi, è stata un'attrazione che è aumentata sempre di più, lo so che sembra strano, ma è stato probabilmente uno dei più bei viaggi della mia vita. Io ho viaggiato tanto, sono stato anche lontano, però davvero questo viaggio a piedi per me è stato straordinario. Perché è stato straordinario? Perché? Che è un unico, mi perdoni, perché io penso sfido qualsiasi, tutti i romani che ci seguono ad aver fatto altrettanto, credo che mai ti verrebbe in mente neanche. No, ma infatti io lancio questa proposta che perdersi un po' di più in giro per la propria città è un modo per capire dove viviamo, per capire e per ritrovarsi. Spesso noi viviamo di pregiudizi, di paure, no? Che contrapponiamo i nostri sogni, senza però permetterci il tempo e darci il tempo di vivere i luoghi dove noi stiamo. Quindi questo alimenta i pregiudizi. Se noi conoscessimo meglio il luogo dove viviamo e tutte le sue piccole contraddizioni saremo anche molto più disponibili, credo, ad accettarle. Adesso mi viene in mente, non so se gli farà piacere, ma insomma anche Jeff Gambardella che si perde, cammina nella grande bellezza. C'è un rapporto tra questi due film così apprezzati nel mondo finalmente dopo anni, ma così diversi? Anche qui, sì, devo dire che la situazione è abbastanza straordinaria. Ci sono due film su Roma che hanno vinto tra i due premi più importanti di cinema al mondo. Quindi Sacro Gra ha vinto a Venezia, il Leone d'Oro e la grande bellezza ha vinto l'Oscar negli Stati Uniti. Quindi questo che cosa vuol dire? Sono due film che parlano di due cose completamente diverse, no? Cioè parlano di questi due centri, il film di Sorrentino che è un bellissimo film, ha una storia tutta sua, proprio su questo centro in qualche modo desertificato, no? Perché io chiamo il centro di Roma così museificato quasi ormai una periferia, cioè un luogo che ha perso molta della sua vitalità e rischia di diventare semplicemente un museo o solamente un museo. Quindi questo è un rischio che è forte tanto quanto c'è il rischio della esplosione cieca invece del centro periferico, il centro lineare che è quello sul raccordo. Allora questi due film raccontano due storie di due luoghi che non riescono a comunicare tra loro. Infatti la mostra, che è il terzo pezzo, la terza gamba del progetto, prevede proprio questo, cioè prevede di mettere in rapporto, in dialogo a confronto i due centri di Roma. Quindi noi l'idea della mostra è realizzare due luoghi che sono, uno, la rappresentazione del centro di Roma attraverso delle fotografie in grande formato che raccontano dei fori imperiali, il Colosseo, Piazza del Popolo, insomma i luoghi iconici e riconosciuti in tutto il mondo della Roma antica e l'altro è invece la Roma quotidiana, quella di tutti i giorni, quella delle persone che aspettano la metropolitana, quella delle persone in coda sul raccordo, eccetera, sono due luoghi che non riescono più a comunicare e invece devono ricominciare a parlare. Il fatto che due film abbiano parlato di questi due luoghi e abbiano vinto due grandi importanti festival internazionali la dice lui. Però né Bassetti né Rosi hanno avuto la cittadinanza onoraria, mannaggia che invece Sorrentino ha avuto con grande enfasi, questo è il difetto, dobbiamo fare una petizione qui, la facciamo. No, no, ma non c'è problema. Adesso l'abbiamo lanciato prima, vediamolo e ascoltiamolo il fantastico palmologo, poi ci dirà anche come l'avete scovato questo signore perché veramente c'è voluto un lavoro di ricerca. Siamo pronti. Grazie a tutti. No, cari miei, questo pasto mi costa era caro, eh. e le faccio andare di traverso queste palme. Non è escluso che se l'intensità è notevole io li faccio addirittura scoppiare, eh. Ho scovato questa sorta di santone con tutte le amministrazioni in tutta Italia che cercano di combattere il punteruolo rosso ai margini del raccordo anurale. L'ho scovato camminando, come tutti gli altri personaggi. L'ho scovato camminando, stavo camminando sotto l'ospedale di Sant'Andrea e a un certo punto ho visto questa grande massa di palme e mi sono fermato, incuriosito e a un certo punto è sbucato fuori Francesco. Ho fatto amicizia subito con lui, una persona molto cordiale e mi ha raccontato la sua storia. È una storia bellissima, è una storia di un uomo che ha vissuto in Africa per 30 anni e che quando è tornato, è tornato per motivi di salute, è dovuto rientrare, però gli è rimasta quella che lui chiama il mal d'Africa, quello che spesso rimane nel cuore delle persone che hanno vissuto tanto in Africa soprattutto e quindi lui si è rifatto un suo habitat intorno a sé, intorno a un vecchio casale mezzo abbandonato ed è a 50-100 metri dal raccordo anulare. E con quel fornelletto lui stava preparando... Lui stava preparando una pozione per sconfiggere il punteruolo rosso che sta devastando e che ha devastato anche molte palme a Roma, non solo a Roma ma anche a Napoli e in giro per tutta l'Italia purtroppo. Allora adesso vediamo invece Renato Nicolini, ripeto, mezz'ora di chiacchierata, intervista... È un ritratto, è davvero un ritratto questo film. Io vorrei mandarne almeno ecco la prima parte, no? Vediamo ne qualche minuto. Vorrei solo dire l'origine di questo lavoro che è un'idea di Gianfranco Rosi, anche questa. Io ho presentato a Gianfranco Renato Nicolini e l'idea era quella di inserire, di chiamare, di chiedere a Renato di partecipare proprio al film, come uno dei personaggi del film. Purtroppo poi Renato la malattia se lo ha portato via e quindi noi non siamo riusciti a concludere questa esperienza. Altrimenti sarebbe stato nel film. Altrimenti sarebbe sicuramente entrato nel film. Per cui abbiamo deciso col materiale girato di costruire un ritratto su di lui anche per rendergli un omaggio. Il film tra l'altro è dedicato a lui e questo che cos'è? È un pezzo di questo viaggio che noi abbiamo fatto intorno al raccordo anulare su un furgone, sul furgone che poi io e Gianfranco abbiamo usato per tutto il film, in cui lui in modo molto libero, eravamo proprio all'inizio del lavoro, parla guardando quello che vede fuori dal raccordo, stando sul raccordo e va a ruota libera, completamente a ruota libera. Quasi dimenticandosi della telecamera a un certo punto. Totalmente dimenticandosi della telecamera. Telefona, canta, pensa. E questo era, non doveva in nessun modo entrare nel film questo materiale, questo era un materiale di studio. Era un materiale per ricordarsi poi le sue emozioni, le sue visioni e poi poter lavorare sulla base di questi ricordi, di questi spunti per immaginare dei pezzi da inserire nel film. Però siccome poi appunto è andata come è andata, noi abbiamo deciso di rimontare in modo sequenziale, quindi è proprio l'idea del giro, c'è tutto il giro e l'abbiamo montata e sono venuti fuori 30 minuti di ritratto di Renato Nicolini. Meravigliosi. Allora, qua inizia perché il cerchio è una delle riflessioni che fa, perché questo rotondo ci riporta indietro nei decenni insomma anche alla realizzazione del GRA, molti ce lo saranno chiesto, poi c'è questa straordinaria concomitanza che da sempre, almeno a me colpisce, è l'acronimo, grande raccordo anulare, ma poi c'è questo ingegner GRA che si chiamava davvero così, Eugenio GRA. Questo è stato uno degli altri motivi che mi hanno convinto a partire a piedi perché è una cosa assolutamente straordinaria come poi potete immaginare che l'ingegnere Eugenio GRA che è uno dei dirigenti dell'ANAS decida come un grande artista di dedicare la più grande opera infrastrutturale della città a se stesso, generando un acronimo. C'è un dettaglio tra l'altro che l'avrà constatato anche Bassetti, quando poi vai a cercare su Google materiale su questo signore non c'è quasi nulla perché in effetti all'epoca il funzionario di Stato era anche anonimo pur realizzando grandi opere, insomma non c'era questa personalizzazione, no assolutamente. Vediamo i primi minuti e poi naturalmente li commenteremo insomma di nuovo insieme al nostro ospite. Ho ancora io qualche difficoltà, un attimo solo ce la facciamo, chiedo pazienza anche alla regia che sto mettendo alla prova, però siamo riusciti a vedere la clip, adesso vi assicuro perché lo abbiamo visto poco fa. Ecco, un attimo soltanto, approfitto, la mostra, non l'abbiamo ancora detto, è già fissata la data o state lavorando sulla mostra fotografica? Stiamo lavorando e l'amministrazione pubblica di Roma, il comune di Roma ha dato la sua disponibilità a collaborare, ho un incontro tra qualche giorno anche con la regione e con il museo Maxi e appunto anche lì se sono rose fioriranno. Non è che rischiamo di vederla altrove, di non vederla a Roma, era un po' la cosa che anticipavo prima, c'è un grande riscontro internazionale, ma Roma, il sindaco, il Campidoglio non si sono resi conto della portata anche di questo come attrazione? Direi che, insomma, poteva accadere di più, poteva succedere di più, è un'occasione straordinaria questa di avere questi due film che parlano di due centri di Roma. non credo l'abbiano accolta fino in fondo e noi faremo di tutto perché l'accolgano, perché l'accolgano, speriamo, speriamo che, cosa devo dire? Ci si è concentrati, insomma, di più sull'altro, io ho capito questo. Vabbè, qui non è fortunata questa messa in onda, adesso ci riproveremo, ci riproveremo, mi spiace, ma vede, noi siamo a ruota libera, insomma, senza rete, procediamo così. Bassetti mi diceva, io lo chiedo se è possibile anche reggere una parte, almeno un frammento del libro, no? Se c'è qualche passaggio che possiamo evidenziare, sempre cercando poi di riavviare qui la macchina. Sì, ecco, no, no, infatti no, di brani ce ne sono di pezzetti. Mi perdoni, mi perdoni, mi perdoni, Bassetti, allora guardi, eh, grigorosa diretta, vediamo Renato Ricolini, vai. Ci sono anche zone in cui si cammina da una parte e dall'altra, campagna, molte automobili, no? Quindi è una zona in cui la città si può solo immaginare, si cammina, questo è un luogo urbano però, perché è uno dei frutti di Roma, della Roma delle Olimpiadi. per prepararsi al 1960, poi si dice che l'effimero, ma già allora, no? Già allora si pensava che il grande evento, la Roma delle Olimpiadi avrebbe trascinato. Quindi già allora per prepararsi a questo, che facciamo? Facciamo un grande anello viario intorno a Roma. Ma lo fecero poi in una zona in cui allora non c'era proprio nulla, no? Senza nessun collegamento, le consolari attraverso il grande raccordo anulare sono degli snodi, ma non c'è nessuna relazione per un progetto, per un disegno, salvo l'assolutezza del cerchio, l'assolutezza del cerchio, che il grande raccordo anulare è tondo, no? Chissà se è esattamente tondo e chissà poi dov'è il centro del grande raccordo anulare. Ci sarebbe interessante fare delle verifiche sulla carta. Dov'è che cade il centro di questo grande raccordo? Qual è il compasso che l'ha disegnato? L'inventore grande raccordo anulare è l'ingegner Gra. E ha pensato questa cosa, forse ha preso il compasso e ha disegnato questo grande tondo intorno a Roma. Ora il tondo è una cosa di grande forza simbolica, no? Cosa c'è di più bello del cerchio? La cosa c'è? Qual è la cupola del tempietto di San Pietro in Montorio? Il tempietto è piccolino, insomma si vede che è un giocattolino. La vera cupola è quella che poggia sull'anello che circonda il tempietto e quindi è una cupola infinita, è la volta celeste, coincide con la volta celeste. Allo stesso modo si può dire discepolo del Bramante, l'ingegner Gra ha pensato di realizzare un'opera che poi è una grande cupola, è un inno a Dio, in un atteggiamento che bisogna iscrivere, contestualizzare, come si dice. Qual era il contesto? 1950, il presidente Mao Zedong entra a Pechino alla testa dell'Armata Rossa e come prima cosa decide di abbattere le mura di Pechino, perché in questo modo la campagna che era per la Cina di Mao, la parte rivoluzionaria, avrebbe potuto entrare nella città. Poi è successo tutto il contrario, è stata la città entrare nella campagna. A Roma le mura aureliane insomma sono le mura della città romana che era piccolina rispetto alle dimensioni della grande città da adesso, molto popolata, insomma piccola. E qui si costruiscono delle mura che non sono delle mura, che sono invisibili. Perché diventano le mura? Perché provate ad attraversare a piedi il grande raccordo anulare. In qualche modo si può dire che la città oggi viene bloccata dalle automobili, di questo percorso urbano che definisce Roma. Infatti tutti i politici si riferiscono a Roma, Alemanno dice toglietemi gli zingari dai coglioni, fuori dal grande raccordo anulare, fuori dal grande raccordo anulare. Il grande raccordo anulare è la fine della città. Poi in realtà non è così, per esempio i giocatori della Roma abitano nell'anglave residenziale che è fuori dal grande raccordo anulare. Sono loro gli zingari, sono loro i che sono stati secondo questa logica. Ma le mura non funzionavano nella città antica, venivano sempre spugnate dal nemico. Tantomeno possono funzionare nella città moderna. Capisco che è un'emozione interrotta bloccare qui, ma questo è il pretesto, andate a cercare il DVD oppure cercate questo fantastico assolo di Renato Nicolini. Ma direi che ci sono tantissimi spunti in queste poche cose che ha detto Renato. Per esempio il fatto che Roma, il grande raccordo anulare è una muraglia fallita, nel senso che ha l'impressione di essere una muraglia, molti ne parlano come delle mura, si dice mandiamo gli zingari fuori dal raccordo anulare. Però questo non vuol dire oltre che essere una bestemmia in sé, ma insomma non è nulla dal punto di vista nemmeno geografico, nel senso che la città è molto più grande del raccordo anulare. È andata ben oltre, quanta campagna romana è stata consumata purtroppo negli anni, edificata, massacrata. Dare qui qualche dato, dentro le mura aureliane risiedono 150 mila persone, fuori dalle mura aureliane, tra le mura aureliane e il raccordo anulare risiedono un milione e mezzo di persone e fuori dal raccordo anulare un altro milione di persone. Quindi questo vuol dire che due milioni e mezzo di persone hanno al centro della loro esistenza, della loro quotidianità, il raccordo e non il colosseo. Beh, dov'è il centro? Mi veniva da pensare forse ognuno di noi, a seconda di dove vive, ha un centro del raccordo, no? Pone lì l'asse di... Come diceva Battiato, no? È il mio centro di gravità permanente. È la scelta. Poi siccome, scusi, ma una regia particolarmente sensibile, giallorossa, ha capito, la regia, no? Il paradosso di Nicolini era proprio questo, diceva come, alemanno, dice, mando via i rom fuori dal raccordo. Fuori dal raccordo c'è un'enclave lussuosa, bellissima, che è appunto uno dei quartieri residenziali di Roma, dove vivono i giocatori e tuttora credo sia quella la zona, no? Qua vicino, noi siamo all'Euro, parlava del Torrino. Quindi la meraviglia di ascoltare davvero Renato Ricolini, lo ripeto, di cui siamo orfani e lo resteremo, nel senso che credo proprio il suo riferimento resterà, è come se fosse con noi. Sì, la sua grande capacità, come avete potuto vedere adesso, la sua grande capacità di avere delle visioni, no? Che questa poi fa la storia di una città e di una città come Roma soprattutto, che è fatta spesso e tutta di visioni. Però, messo a proposito di margini, questo bisogna dirlo ogni tanto, hai margini dalla politica, dal partito, insomma, in cui era entrato, uscito, ben prima, insomma, che stesse male. Perché era una persona indipendente, era una persona che aveva una grande indipendenza e quindi, e quindi, proprio per questo, perché non... Non era facile, no? Mettersi al tavolino, fare uno più uno in politica, fa due, con Nicolini era molto complicato. No, no, era quasi impossibile, direi. Allora, verso le conclusioni, io le chiedevo se è possibile un piccolo brano, insomma, a scelta, no? Di questo prezioso libro. Un piccolissimo brano, direi che lo prendiamo dal prologo, in modo che non togliamo nulla, eventualmente, chi vuole poi leggerlo e spero che lo andrete in libreria a comprare. Edito da, l'abbiamo detto? Edito da Quadlibet, che è una casa editrice specializzata in questo tipo di cose, che è distribuito in tutte le librerie, bisogna chiederlo, Feltrinelli, piuttosto che Mondadori, piuttosto che IBS, insomma, tutti ce l'hanno, si può anche ordinare sul sito di Quadlibet o sui siti classici dove si ordinano i libri. Il viaggio, il nostro viaggio, che è raccontato in questo libro, che ha anche delle mappe, il libro ha anche delle mappe per raccontare proprio tappa per tappa il viaggio che abbiamo fatto, parte dal centro geografico di Roma, cioè parte da Piazza Venezia, parte da Piazza Venezia e fa questo percorre, questo grande, io lo chiamo un fiordo, che è l'unico, è un luogo straordinario che solo Roma ha, questo grande vuoto che va dal centro geografico fino a oltre il raccordo anulare, ed è il parco della Piantica, il parco della Piantica che si collega poi ai fori imperiali, quindi è un luogo che se... io ho percorso da Piazza Venezia fino a fuori senza mai incontrare una casa, straordinaria questa cosa, qui si va alla Caffarella, eccetera, allora io leggo una piccola parte brevissima, brevissima, dall'altare della Patria in fuori non si va verso un semplice nastro d'asfalto di quasi 70 chilometri, con 33 uscite, gallerie, ponti, svincoli, complanari, bensì verso una bizzarra opera d'arte, ibrida, praticabile, in perenne cambiamento, incerta e misteriosa, che mischia movimento, realtà, immaginazione e possibilità. Guardate una mappa del Gra e vedrete che è piena di punti interrogativi, quanti sono gli svincoli e quali che si prendono solo dalla corsia interna ed esterna, è la cosa che diceva Antonio, no? Nessuna cartina saprà rivelarvelo, tra l'altro non lo sanno nemmeno all'Anas quante sono le uscite del Gra. Alcune uscite sono ad usum delfini, sconosciute ai più, finiscono in un campo, fra ruderi, in un gruppo di case disabitate, strade che non conducono a nulla, sotto i suoi ponti stanno panni stesi, materassi, pollai, selciati di antiche strade romane, un regattierato onnivoro del presente e la sacralità del reperto antico. Il Gra apre in due interi quartieri, spontanei malamenti difesi da muri di vetro antirumore, serve da passerella a lottizzazioni legali recenti e già obsolete, lambisce decine di smorsi con le gru che protendono il loro collo quasi sull'asfalto, penetra nelle selve etrusche, fra le grotte di tufo, rifugi di uomini e di oggetti. Questo è un pezzo del prologo che introduce poi al viaggio lungo le terre di raccordo. Grazie, veramente grazie. Io in occasioni così, insomma, dico ai nostri telespettatori, anche quelli più affezionati, insomma, ci facciamo e facciamo loro, credo, un bel regalo, no? Quindi in attesa di assistere anche alla mostra, di vedere, insomma, quello che il Campidoglio, che oggi abbiamo un po' così stimolato, riuscirà a fare per valorizzare questo grande progetto che parte da lontano. Ecco, io davvero ringrazio Niccolò Bassetti, gli faccio... Grazie a voi. Ecco, migliori in bocca al lupo per, naturalmente, i futuri progetti. Se volete mettervi in contatto sul sito sacrogra.it potete vedere tutto il progetto e mandarci delle mail e noi vi risponderemo. Grazie. Arrivederci. Invece noi ci vediamo domani, se volete, ma eccezionalmente di giovedì, a Foro Romano, tutto incentrato sul sesto municipio, le torri, le periferie, insomma, di Roma, ex ottavo municipio, in studio il presidente Scipioni, due consiglieri comunali, come sempre un consigliere municipale, filo diretto con i cittadini che potranno chiamare dalle 14 alle 15.30, domani però quelli appunto del municipio sesto. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.